La figlia di Rita dalla Chiesa, Giulia Cirese in lutto, è morto il marito Massimo Santoro Chi è la figlia di Rita dalla Chiesa? Grave lutto per Giulia Cirese. E' stata Rita dalla Chiesa a condividere con i suoi fan il dolore per la perdita del genero Massimo Santoro. L'uomo, autore tv di Uno Mattina, era sposato con la figlia di Rita dalla Chiesa, Giulia Cirese. Negli anni 70 Rita ha sposato il cantante jazz Roberto Cirese e dal loro matrimonio è nata Giulia. Dopo la fine del matrimonio con Cirese, Rita dalla Chiesa sposa Fabrizio Frizzi. Il matrimonio tra Frizzi e Rita dalla Chiesa dura sei anni . 1992-1998. Il rapporto tra la figlia di Rita dalla Chiesa ed Fabrizio Frizzi è sempre stato ottimo. Giulia ama la musica, come suo padre. Nel 2007 Rita dalla Chiesa diventa nonna di Lorenzo, il figlio di Giulia Cirese e Massimo Santoro. . È proprio all'amato nipotino che Rita rivolge un pensiero, dopo la morte del genero Massimo. Al momento non si conoscono le cause che hanno portato alla dolorosa e prematura scomparsa di Massimo Santoro. Il genero di Rita ci lascia all'età di 52 anni. . Tutti gli amici e i colleghi si stringono intorno alla famiglia. Cogliamo l'occasione per porre, anche noi, le nostre più sentite condoglianze. . La dedica di Rita dalla Chiesa al genero Massimo Santoro. Ciao, Massimo! Papà di Lollo. . Marito di Giulia. Scegliti una stella, fra quelle che incontrerai nel tuo viaggio, e accendila di tante luci. . Così il mio cacciatore di stelle potrà riconoscerla e saprà che lì ti sei seduto tu. . Il suo meraviglioso papà. . . . . . .